Federica Brignone, reduce dalla vittoria di Selden. Come sono stati questi giorni dopo la gara? Impegnativi. Sono allenata, non ho cambiato i miei programmi, sono andata a fare slalom e mi sono divertita in pista. Adesso come proseguirà la tua preparazione in vista delle gare in Nord America? Adesso il weekend andrò finalmente a casa, due giorni, cercherò di rilassarmi un attimo e poi farò una settimana di allenamento con le altre ragazze, una settimana non lo so dove e poi in America. Farai anche levi? Se si farà? No, l'organizzazione no. Ok, niente, la vittoria è già raggiunta e adesso? E adesso spero di continuare così. Grazie, grazie mille in bocca al lupo. Grazie Crepi, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.